Bison 1542 è l'espressione più pura del Prosecco Superiore di Valdobbiatene e fa parte del gruppo Lunelli dal 2014. Con cinque secoli di storia legata al suo territorio, patrimonio dell'umanità Unesco. Bison 1542 firma bollicine che raccontano un mosaico di vignetti e di terroir, frutto della viticoltura eroica praticata su colline ripide tra Dolomiti e Venezia. Mediante l'innovativo sistema marketing image siamo riusciti a utilizzare tutte le scorte di etichette già a magazzino, senza pianificare smaltimenti ed evitando costi aggiuntivi per l'azienda, oltre a rispettare il valore della sostenibilità, fondamentale per tutti i brand del gruppo Lunelli. Oggi Bison 1542 comprende due brand, Bison 1542 e Jayu. Quest'anno Bison 1542 festeggia dieci anni nel gruppo Lunelli, avendo triplicato nel 2023 i riconoscimenti della migliore critica internazionale rispetto al passato. Il suo motto è Bring Inspiration Everywhere. La nostra principale esigenza è stata quella di individuare un sistema di codifica chiaro che ci permettesse di rispondere a tale roba attiva in maniera flessibile e funzionale rispetto al nostro sistema produttivo e abbiamo potuto farlo con marketing image. Marketing image ha lavorato a stretto contatto con il gruppo Lunelli Bison 1542, progettando una soluzione che consentisse di rispettare il regolamento UE 2021-2117, che impone a tutti i produttori di vini nella UE di fornire informazioni complete su ingredienti e valore nutrizionali. Grazie a questa collaborazione abbiamo sviluppato una soluzione che consente la generazione e le applicazioni di codici QR univoci sulle linee di produzione, garantendo che ogni bottiglia abbia informazioni precise e aggiornate. Utilizzando la tecnologia di stampa da assolimento termico SmartBerry 65 insieme al nostro software Colos, è stato possibile generare codici QR, gestendo dinamicamente le informazioni sugli ingredienti del prodotto, garantendo con codici QR conforme informazioni pertinenti e accurate per i consumatori. Grazie all'integrazione del software Colos con il sistema RP, i dati necessari alla compilazione del corretto QR sono caricate automaticamente, facilitando la gestione dei dati in produzione. Nonché, questa soluzione facilita le frequenti necessità di variazioni imposte ai differenti design delle etichette, adattandoci alle leggende specifiche di ciascun marchio. Grazie infatti alla facilità del cambio colore di stampa, ogni etichetta può essere facilmente personalizzata. In sintesi, la collaborazione tra Marche Mimage, gruppo lunedì episode 1542, ha dato vita a una soluzione completa che combina stampa e software per fornire codici QR di alta qualità, conforme alle normative, migliorando così l'esperienza del consumatore e garantendo l'accuratezza delle informazioni fornite. Marche Mimage è fin dalla sua nascita un simbolo di innovazione. Già negli anni 90, la tecnologia di stampa rotativa serie 9800 ci indicava come pionieri nella codifica di etichette e film e successivamente leader nella tecnologia di codifica trasferimento termico con la famosa macchina Smart Date. Smart Date consente infatti la stampa di codici di alta qualità su pellicole flessibili ed etichette. Con l'aumento delle necessità di velocità abbiamo lanciato successivamente Smart Date 3, Smart Date 5 e ora Smart Date X65 e per gestire la crescente complessità dei messaggi abbiamo sviluppato la piattaforma Colos. Dal 2005 Colos Enterprise ha automatizzato l'invio dei messaggi alle macchine ed oggi Colos Factory si integra con sistemi IRP come AS400 e SAP consentendo il trasferimento dei dati di codifica direttamente al codificatore prevenendo errori e ottimizzando la produzione dell'inventario. Inoltre il monitoraggio della produzione in tempo reale riduce gli sprechi e il consumo di energia migliorando l'efficienza operativa e l'impatto ambientale. La nostra strategia supporta la domanda di stampe 2D serializzate di alta qualità essenziali per conformarsi alla legge sulla modernizzazione della sicurezza alimentare e prepararsi alla rivoluzione dei codici a barre dinamici QR Digital Link promossi da GS1. Siamo orgogliosi di avere la fiducia della rinomata Cantina Bisol 1542 e del gruppo Lunelli.